Andiamo avanti, abbiamo parlato di politici e offese, li ritroveremo su tutte le prime pagine dei principali quotidiani e allora andiamo nella pagina 2, nel primo piano della nazione, del quotidiano nazionale, perché c'è tutto un approfondimento su questo uso indiscriminato dell'offesa in questa ultima campagna elettorale. Hitler e Bettino, Salma, Sciacallo, i leader, fanno a gara di insulti, la campagna elettorale si infiamma e nemmeno Dudu viene risparmiato, Dudu è il cane di Berlusconi. Ecco le frasi incriminate. Beppe Grillo, io sono come Hitler, senza Stalin, Schulz avrebbe la svastica in fronte, ma vedi di andare a e non proseguiamo. Matteo Renzi, caro Beppe Gufo, il tempo dei pagliacci è finito, bisogna mandare in Europa gente che non ci faccia vergognare, risposta caustica. Silvio Berlusconi, Grillo è un pazzo e a me fa paura, gli italiani che lo votano lo fanno perché sono disperati e furiosi. Ancora Grillo, Lebetino, fra parentesi Renzi, è andata a dare due leccate al culone della Merkel. Berlusconi non è più psiconano ma tinto brass. Ancora avanti, Matteo Renzi, votate tutti, ecco la frase di ieri, ma non i buffoni. Grillo usa un linguaggio strano, parla di peste rosse, insulta. E poi Berlusconi ancora, in Beppe Grillo vedono le caratteristiche dei leader più sanguinari della storia, da Stalin a Pol Pot. Ecco perché Grillo aveva fatto un altro riferimento a Stalin. Ed ecco qua che c'è quello che si riportava dalla prima pagina, c'è Sgarbi e del suo elogio alla parolaccia, dice però che dietro c'è soltanto il vuoto. Andiamo allora a vedere qualcosa anche sull'online, la prima pagina del Corriere della Sera.it, il primo sito italiano dell'informazione e non solo, non posso farvela vedere per il momento, ve la faccio vedere tra poco. Intanto invece torniamo alla Repubblica, la Repubblica del lunedì che apre con Matteo Renzi, anche in questo caso, la sfida a Grillo che riporta anche la Repubblica. Non votate i buffoni, oggi però intanto si decide sulla Tasi. Polemica sulle piazze, tra 5 Stelle e il leader PD, Alfano, sia i poteri di Cantone e Alfalzo in bilancio. Quindi c'è un po' un purpurri, si parla di tutto. L'ultima settimana di campagna elettorale, una campagna elettorale che in qualche maniera dopo il voto avrà delle ripercussioni anche sulla nostra politica. Sapete benissimo che se i rapporti di forza fra i partiti dovessero cambiare, potrebbe cambiare tutta la storia della nostra nazione da oggi e per il prossimo futuro. Perché? Perché per quanto riguarda le riforme, soprattutto la legge elettorale che prevederebbe il ballottaggio fra le due forze di maggioranza, era stata studiata quando si presumeva che le due forze di maggioranza fossero destra e sinistra, centrodestra e centrosinistra, PD, Forza Italia e quant'altro. Invece adesso c'è il ciclone Grillo che incombe e non porterà probabilmente grandi novità per le riforme quanto a proposte, visto che come si legge non c'è stata una sola proposta in questo senso in questi quasi 12 mesi al governo, ma porterà delle rivoluzioni riguardo la possibilità di approdare alle riforme definitive, perché se dovessero cambiare rapporti di forza potrebbe cambiare anche il patto fra centrodestra e centrosinistra per arrivare a qualche cambiamento nel nostro paese. Per questo si prevede quindi che le elezioni delle elezioni europee, collegate a tante elezioni amministrative in diversi luoghi, potrebbero avere una ricaduta immediata. Ieri a questo proposito c'è stata anche un'intervista rilasciata dall'altro leader dei 5 Stelle, Casaleggio, dopo la vedremo. Intanto torniamo alla prima pagina della Repubblica perché c'è una foto emblematica, è quella di centropagina, foto allungata come ormai consuetudine in senso verticale per Repubblica.it e si parla di quanto sta accadendo nei Balcani, una tremenda alluvione che colpisce Croazia, Serbia, ma anche Kosovo, Slovenia, un grande problema in tutti i Balcani e quindi Balcani sotto il diluvio che però unisce i popoli nemici. Si tratta di una foto dove si vedono sfollati che dormono su materassi, c'è un reportage da parte di Repubblica.it di quanto sta accadendo nella zona dei Balcani della ex Jugoslavia. Andiamo avanti con la politica internazionale perché c'è, ci sono delle novità che arrivano dalla Libia, attacco al Parlamento, sono arrivati i carri armati, battaglia a Tripoli e a Bengasi. Si teme adesso addirittura un possibile colpo di Stato in Libia. Credo che dovremmo aver ripristinato, no ancora non abbiamo il collegamento con l'online e allora andiamo avanti con i titoli. Ecco qua il collegamento online con il Corriere della Sera. Le aperture sono legate soprattutto allo sport. Ieri una giornata particolare, dopo ne parliamo, ma vi facevo vedere che su Corriere.it c'è anche l'intervista a Casaleggio. Ora si è spostato, eccolo qua. Vediamo se ci riesco. Abbiamo un problemino oggi. Eccolo, Casaleggio con il cappellino che dice se vinciamo le elezioni subito un nuovo capo dello Stato, quindi non so come farebbero a destituire Napolitano, comunque vedremo. E subito il voto. Questo è quanto annuncia Casaleggio. Poi per quanto riguarda Renzi, ancora l'affondo di Renzi, votate chi vi pare ma non i buffoni, lì del PD che attacca il Movimento 5 Stelle, piazze più vuote meno voti. Poi abbiamo però anche un riferimento alla vicenda dell'Expo. Un decreto dopo l'Europei Cantone, che è il commissario messo dal governo a seguire le vicende dell'Expo, controllerà tutti gli appalti. Ecco le notizie del Corriere.it. Più in basso, ancora le vicende sportive e per trovare un'altra notizia che non sia di sport, bisogna andare più giù verso l'Election Day. Come funziona a Bruxelles? Qui non ci sono i pianisti, dicono al Parlamento Europeo. Un approfondimento di David Parenzo. Andiamo invece alla prima pagina del cartaceo del Corriere. Lo facciamo attraverso il titolo di apertura, così il decreto per salvare l'Expo. Poteri a cantone, più uomini e mezzi e accesso agli atti. Da assegnare ancora appalti per 200 milioni di Euro. Prima intesa sulle norme anticorruzione, però si prevedono tempi lunghi. L'Italia deve risolvere al più presto questo problema per cercare di arginare il problema derivato dalla vicenda della corruzione all'Expo. E poi più in basso a destra, al di là della foto di centro pagina che dopo commenteremo, le milizie assaltano il Parlamento. È golpe in Libia. In azione il generale laico Haftar. Ecco quanto sta accadendo a livello internazionale proprio in Libia e ci sarà bisogno di approfondire questa vicenda nei prossimi giorni. E intanto la foto di centro pagina è quella che vi dicevo, la bellissima Monica Bellucci a Cannes. Il suo film, lungo applauso per le meraviglie italiane. 12 minuti di applausi alla proiezione del film. Unica pellicola italiana in concorso al Festival del Cinema dei Cannes, con mostra la regista Ror Warker e la sorella maggiore Alba, che recita nel ruolo di Angelica, la madre emozionante e in lacrime, anche Monica Bellucci e la giovanissima Maria Alessandra Lungu, protagonista con il nome di Gelsomina. Va bene, queste erano notizie più legate alla società, cultura e società. Invece adesso torniamo sull'online con Repubblica.it e vediamo di approfondire un po' i titoli dell'online di Repubblica. Renzi Contogrillo non votate buffoni, i titoli che abbiamo seguito un po' su tutti i giornali. Leader del Movimento 5 Stelle Griglio che risponde farà la fine di Monti e Diletta. E scontro anche sui numeri in piazza Reggio Emilia. Il comico ha la stoccata anche per Berlusconi. Non voglio vivi sezione di Dudù, ma di Berlusconi. Poi ancora titoli sportivi, ma quelli li vediamo dopo. E qui torniamo alla Libia. Attacco al Parlamento. Due morti. le foto dei tank vicino al Parlamento libico. Per il governo è un golpe. A Benghazi sono 79 le vittime. Ci sono razzi lanciati sull'aeroporto. Resta dei conti fra milizie laiche e islamisti. Ecco quanto sta accadendo in Libia. E poi invece una notizia di cronaca drammatica. Colombia si incendia uno scolabus con 50 bambini a bordo. Ci sono 32 morti. Una notizia davvero davvero drammatica. E credo che sia il momento di andare anche in alto e cominciare a parlare anche di sport. Lo faremo in maniera approfondita poi nell'ultimo blocco di Buongiorno con noi. però l'online apre con notizie sportive del giorno di ieri anche su Repubblica. Juve 102 punti per la storia. Ieri la vittoria della Juventus sul Cagliari ha portato la formazione bianconera a 102 punti. Dopo la vittoria dello Scudetto anche un record che difficilmente potrà essere battuto. L'ultra cercano di fare guastafeste ma soprattutto c'è la vicenda Europa perché è il Parma da giudicarsi l'ultimo posto in Europa League. Il Milan resta fuori. Un dramma sportivo quello del Torino che al 94esimo sul campo della Fiorentina sul risultato di 2 a 2 ha avuto un calcio di rigore. L'ex Viola Cerci sul dischetto si è fatto intercettare il tiro da Rosati. Se il Torino avesse vinto avrebbe centrato l'Europa League al posto del Parma e invece il Parma ha ottenuto un grandissimo successo. Andiamo anche al Corriere.it, ve lo faccio vedere subito appena la pagina si carica perché anche in questo caso abbiamo ampio spazio allo sport. Ieri non c'era soltanto il calcio, c'erano le finali del ATP a Roma quindi dopo la sconfitta di Errani in finale, ieri maschi con Djokovic. Comunque avanti. Beffa Toro, Parma in Europa, la disperazione di Cerci, Juve de Record 102 e lode. E poi però abbiamo anche un rebus su Conte e il suo futuro, l'allenatore della Juventus non ha ancora rinnovato il contratto con i bianconeri. A destra la foto del centrale di Roma, stiamo parlando di tennis con Djokovic che ha battuto Nadal in 3 set e poi a fine partita, siamo di nuovo senza l'online, a fine partita ha disegnato un cuore sul campo e su quel cuore disegnato con la racchetta si sono disposti i raccattapalle. Djokovic ha salutato così Roma, città che lo ha adottato quando era un ragazzino, il serbo, poi ha dedicato la vittoria a tutti i popoli di tutte le città, di tutte le nazioni, dei Balcani, un serbo che quindi pensa anche a Croazia, Slovenia, Kosovo e tutti i popoli che stanno soffrendo per la tremenda alluvione di questi giorni. Break, pubblicità e poi ultimo blocco, ancora tante notizie sportive su Noi TV.